Verso Novara, verso Bellinzona. Il binario nuovo verniciato di bianco per evitare che col caldo si dilatino le rotaie. Si vede il portale nord della Galleria Varallo Pombia, che termina nella stazione di Pombia. Il sistema rilevamento termico boccole, rilevamento termico freni. La stazione. Qui c'era il primo binario, che è stato rimosso quando la stazione è stata trasformata in fermata. Il binario nuovo verniciato di bianco. Suonano le campane delle cinque. Quattro. Il sistema rilevamento termico boccole, rilevamento termico freni. 9 chilometri da oleggio, origine della ferrovia. Grazie! Vibra il binario Fanali rossi di coda Fanali rossi di coda La locomotiva isolata prosegue la corsa in direzione Gallarate Il binario nuovo verniciato di bianco per evitare che col caldo si dilatino le rotaie È martedì pomeriggio, siamo a giugno, ore 17.02 Verso Laveno e Bellinzona Verso Novara La stazione È appena passata una locomotiva isolata, diesel, da Novara per Gallarate Qui c'era il primo binario che è stato rimosso quando la stazione è stata trasformata in fermata La stazione è di Porto Varallo-Pombia sulla linea Luino-Novara L'ex ufficio del dirigente Questo era l'ufficio del dirigente movimento Le vecchie apparecchiature di rete ferroviaria italiana La stazione è stata trasformata in fermata negli anni 90 Il binario nuovo, bianco Verso Bellinzona Verso Novara Si vede il portale nord della Galleria Varallo-Pombia Lunga tre chilometri che termina nella stazione di Pombia Il sistema rilevamento termico Boccole, rilevamento termico Freni È appena passata una locomotiva isolata, diesel, da Novara per Gallarate 9 chilometri da Oleggio, origine della ferrovia La stazione Il binario nuovo, verniciato di bianco per evitare che col caldo si dilatino le rotaie La stazione La stazione Martedì pomeriggio, siamo a giugno 9 chilometri da Oleggio, origine della ferrovia E' appena passata una locomotiva isolata per Gallarate Il binario nuovo, bianco Il binario nuovo, bianco Verso Varallo-Pombia centro paese A Varallo-Pombia nel territorio comunale passa anche la linea Arona-Novara Percorsa sia da treni passeggeri che da treni merci La stazione di Porto Varallo-Pombia sulla linea Luino-Novara Verso Varallo-Pombia centro paese La stazione E' appena passata una locomotiva isolata diesel da Novara per Gallarate E' martedì, siamo a giugno La stazione